Con decreto del Ministro dell'Interno Marco Minniti è stata fissata la data per lo svolgimento delle consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali nelle regioni a statuto ordinario per domenica 11 maggio 2017. I comuni della provincia d'Imperia interessati sono Baiardo, Pornassio, Taggia e Triora. Nel primo caso si vota perché sostituire il sindaco deceduto, Ioseli Tardi, negli altri casi perché il primo cittadino è arrivato a fine mandato. Da nessuna parte si andrà al ballottaggio in quanto nessun comune supera i 15.000 abitanti.